Salve a tutti ragazzi, io sono Matthew e benvenuti in questo primo video del canale Questo video sarà un'introduzione per farvi capire perché ho creato questo canale e che cosa vorrei fare Lai sono Matthew e mi reputo un VIP, cioè un vero e un compreso pro perché non so fare niente in questo canale Quindi non pensate che sarò un grande giocatore, saranno solo cose spuntate così dal nulla Ho creato questo canale perché vorrei farvi divertire un pochino, 15 minuti, il tempo che vi rilassate E perché poi mi piacerebbe anche, non so, fare dei video così per divertirmi anche io e editare qualcosa di divertente Cosa tratterà questo canale? Io avevo pensato di fare delle challenge, scherzi, battute, comunque qualcosa di divertente dove uno si rilassa E poi anche delle sezioni in cui potrei parlare di giochi, giocare insieme, fare qualche cavolata mentre gioco Perché alla fine un VIP non è che gioca per vincere, ma gioca, prova a vincere, ma perde E questo qua è quello che farò Quindi io consiglio questo canale a chi ama divertirsi, rilassarsi un po' e pensare a niente per qualche tempo Tipo questa mano che cammina e non si ferma più Allora, vabbè, quindi niente Se vi piacerebbe seguirmi o qualcosa altro, aspettate il prossimo video No, comunque, per il prossimo video se riuscirò lo metterò dentro fine settimana perché voglio cominciare subito a bomba Perché un VIP fa così E niente, quindi porterò una challenge o qualcosa con qualcuno Aspettatela Per adesso vado Quindi aspettatevi una partenza bomba Like, iscrivetevi e mi raccomando al prossimo video Ciao Ciao